Grazie 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 Che mi è nata mamma mia Dai che avrà giù che tira un sospiro Anche perchè l'ho venduto un vento Non è che lo sta caricando? Adesso va arrivare lì qualcosa anche perchè l'ho venduto Venti Adesso vai in un magazzino e sta lì fermo Finchè finiscono la casa una torre lì a Potecino Vai in una torre da fuori Ah ma è lì L'ha ritirato loro O lo devi portare qui No guarda loro al magazzino sotto al continente Fini non può stare Va si sta Allora Tu chiudi così Vedi che aggancia la sotto Guarda Chiuso Chiudi Poi Se invece fai così Esmerizzo Lei è latino Poi Riappri qua Non si può vedere In 100% Diogo Ed Che Ho